Come studiare più libri per una stessa materia, cioè per preparare uno stesso esame. Ci sono delle strategie che ci permettono di seguire l'ordine corretto nello studio dei vari libri, a prescindere da quale sia la materia. Ci sono in un certo senso dei trucchi, ma molto tra virgolette, per riuscire a studiare meno e studiare contemporaneamente anche meglio. Questo è l'obiettivo che voglio farti raggiungere, che raggiungeremo insieme. Prima di parlare di questo, però, ti ricordo che in descrizione trovi il link attraverso il quale puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Troverai contenuti scaricabili, spiegazioni pratiche, dimostrazioni, qualche elemento teorico che non guasta mai. Comunque, ti basta inserire il nome e la mail e poi riceverai tutto gratuitamente. Per quello che riguarda invece il video di oggi, vediamo la sigla e poi iniziamo a parlare di questi libri, tanti libri talvolta, per preparare un esame universitario. Vediamo insieme quindi come preparare una materia con più libri e in generale anche più tipi di materiale. Devi seguire un ordine ben preciso, che adesso ti farò vedere qual è, e ti spiego anche come integrare le informazioni per riuscire a studiare meno e anche meglio. Partiamo dal primo libro da studiare, dalla prima categoria di libri da studiare, cioè il manuale. Devi partire sempre da questo come testo, possibilmente ne trovi anche due nella stessa materia. Nella maggior parte dei casi è uno solo. In genere è quello anche più lungo, più sostanzioso, sono centinaia di pagine, per non dire migliaia nei casi veramente, veramente più estremi, e l'importanza di questo libro risiede nel fatto che all'interno ci sono tutti i concetti di base, o la stragrande maggioranza dei concetti di base della materia, quindi in un certo senso proprio il nucleo degli argomenti che devi assolutamente conoscere, e ti dà anche una struttura, un'organizzazione dei temi e degli argomenti. Quindi sai non solo quali sono i concetti di base, quelli più importanti, ma anche come sono organizzati. Quindi questo è lo scheletro della materia, e proprio da questo devi partire perché questa è la bassa che devi assolutamente conoscere. Fatto questo, la seconda categoria, diciamo così più correttamente, di libri da studiare sono i monografici o il monografico. Cioè sono tutti quei libri che non sono manuali, non approfondiscono tutti i temi, ma approfondiscono alcuni argomenti. Sono dei contenuti molto più specifici, perché magari nel manuale un capitolo è affrontato in 20-30 pagine, invece un monografico è un approfondimento di quell'argomento, ma con 150 pagine a disposizione. Quindi ovvio, è normale che ci siano molti più contenuti specifici, però solo per quell'argomento, solo alcuni degli argomenti trattati. Ovviamente se non conosciamo attraverso il manuale gli argomenti di base non ha senso passare ai monografici. Per questo ti consiglio prima di tutto di partire dal libro del manuale e poi spostarti sul monografico o i monografici, perché talvolta sono più di uno. Dopo aver finito questi, passa alle slide o alle dispense che sono state fornite dal docente. Talvolta non ci sono, certe volte sì, altre volte sono solo quelle che vengono utilizzate durante le lezioni per fare le spiegazioni, quindi in un certo senso non sono materiale diretto per studiare, ma lo possiamo utilizzare. Anzi, io ti consiglio quando puoi di utilizzarlo, perché le slide dispense ti danno la visione che ha il docente delle informazioni specifiche che devi andare a studiare, proprio per come le vede e quindi di conseguenza anche per come poi ti farà le domande o strutturerà le domande dell'esame, anche qualora fosse scritto. Quindi in un certo senso, se il manuale ti dà un'idea generale delle informazioni, con il monografico vai a approfondire alcuni argomenti importanti, con le slide e le dispense riesci a capire esattamente come il docente vuole spiegate queste informazioni, le vuole riportate all'esame. Ed è molto utile per andare ad evidenziare dei collegamenti che magari sono importanti per il docente e che magari non sono state abbastanza sottolineate, tra virgolette, né nel manuale, né nel monografico o nei monografici. Quindi questo è l'ordine che ti consiglio di seguire. Parti dal manuale, spostati sul monografico o i monografici e infine vai ad integrare anche slide dispense in cui troverai, per la maggior parte dei casi, una ripetizione di quello che hai già approfondito. A questo punto la seconda parte del video è dedicata all'integrazione delle informazioni. Perché devi integrare le informazioni che hai ottenuto finora? Perché il tuo obiettivo è quello di ottenere una preparazione completa, quindi come se facessi un sunto di tutto il materiale studiato con questo che è l'ordine corretto. Allora, parti prima di tutto dall'integrare quei contenuti che hai studiato nel monografico al manuale. In che modo? Come ti dicevo prima, se, per esempio, il capitolo 3 del manuale viene approfondito con il monografico, non ha senso, quando vai a ripassare, ripetere il capitolo 3 del manuale, perché vorrebbe dire ripetere qualcosa che poi devi andare a ripetere in modo molto più approfondito. Quindi, quando ripeti il manuale e arrivi, come ti ho detto per questo esempio, al terzo capitolo, prendi il monografico e cominci a ripetere quello come se fosse il terzo capitolo, ma molto più approfondito. Ecco, hai studiato meno, ma hai studiato meglio perché le informazioni sono molto più specifiche. Fai questo lavoro anche con slide e dispense andando a cercare quelle informazioni che sono assenti nel manuale e nel monografico e che invece hai trovato solo nelle slide e solo nelle dispense. In questo modo la preparazione finale sarà veramente completa. Ovviamente, se dovessi avere domande o dubbi, non farti problemi a scrivermi nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi in descrizione. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, per la tua attenzione e ti aspetto nel video che uscirà domani.